Ciao ragazzi, bentornati a Genshin Impact, sono il vostro cocodrilo Matto 700 che vi parla e siamo qui per continuare con la storia Siamo qua sopra Sì, qua sopra Qua allo stagno E andiamo a recuperare il terzo petro Qua in mezzo all'acqua E a 70 metri, più o meno Se sarà la missione della storia Per continuare Andiamo Il migliorio si è colpito Il singhiale si è colpito Bene, entriamo alla grotta Ci crederebbe anche L'elettrico per questa missione Questo è Questa squadra qua Con Lisa Quindi andiamo con questa squadra qua Anche se Lisa è un po' bassa di livello Andiamo La media di personaggi che ho è 40 Tranne Lisa che è un po' bassa Un po' bassa È solo a livello 24 Bisogna un paio di risorse in più Come avete visto Nei scorsi video Con potenziato Abbiamo Il personaggio Diluc Abbiamo tutti la maschera Anche Diluc Indosso la maschera Guardate che forza di personaggio Guarda su una schegna Beh Perfetto Abbiamo attivato la mancanza Perfetto Questo personaggio qua È un personaggio del fuoco Ha una spadona spettacolare È un personaggio del fuoco Come si poteva intuire Andiamo a vedere Un paio di sue caratteristiche Qua non indosso la maschera È un personaggio di livello 30 Ha una potenza di attacco Altissima Difesa bene Ha una spadona di 5 stelle Spettacolare Direi Con attacco E attacco D'attacco base E attacco Completamente basato su attacco Incrementa l'attacco del 20% Ogni volta che un personaggio Un personaggio Siene 30% sotto di vita No Uno dei nostri personaggi Uno dei nemici In poche parole Quando faremo abbastanza danni ai nemici Se andranno Quando Bah Che casino che ho fatto Quando noi Infelizeremo danni Del 70% Sulla la vita del nemico Arriverà al 30% Diventeremo forti 40% in più Ogni membro Per 12 secondi Quindi se cambieremo anche personaggio Per 12 secondi Rimarranno forti Tutti Per E Si attiva Ogni 30 secondi Ha un artefatto dell'attacco Costellazione Due costellazioni Difficilissimo ottenerla Essendo un personaggio 5 stelle Bene Non fermiamoci qua troppo Ma prima voglio vedere se tutti i personaggi Deve lo sconare la maschera No Solo di Luke E noi Dobbiamo aspettare che si ruoti Le catarughe in fuoco E possiamo passare Come avete visto Tiriamo ad occhio Le passaggi Di nasposti Come questo Slime E adesso Si Andiamo Le abbiamo Sterminati giù Occhio A passaggi Scrivete Nei commenti Se Ne vedete Che ne salto qualcuno Trovato un altro passaggio Qua Ho visto quel tizio lì Che Mi sfograva La spada Davanti A me Quindi mi era Ho sconare Un po' Proprio 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 Per Per vedere se Mi sfograva Se Ispire Si Il Si Non 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 Si Signora sé il nome puoi ma praga Questa signora pare... parecchio importante. Andiamo... da un'altra persona... no, un screener. Si è chiusa la parte che dovevamo contare per questi nemici qua. Con Diluc in squadra passiamo veramente brutta. E' veramente forte, come Diluc. Forza. Guardiamo qua sotto. Adio dovevano tendere la fine. Pensavo che non doveva scadere la fine. Invece dobbiamo raccogliere tutte le... Allora, insomma, tutte le rape. Questo era un giro. Il potere diventare più forte è veramente utile. Fuoco con fuoco non fa danni, poi gli attacchi normali fanno tanto danni. Esatto, perché abbiamo Diluc da usare. Lo usiamo fino in fondo, insomma. Noi, chi sei? Chi sei? Cosa? Cosa? Pfff... Cosa? Cosa? Pfff... basta scrivetelo nei commenti se voi siete andati prima da lui avete ottenuto la chiave direttamente o bisognava bisognava fare tutto 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 insomma tutti tutti i nemici sono sconti da noi andiamo avanti ah se non so bene oh un nemico attiviamo la stufa di luca che fate penso che abbia bisogno di un aiuto di luca avete visto abbiamo la spada in campo arriviamo alla spada in campo abbiamo scrivato tutti i corpi in cominciamo dando di giro con il gas se avete visto si è potenziale ancora il potere la spada ogni volta che si attiva il potere della spada viene su un disegno rosa abbiamo trovato l'ira quella che voleva venti che si è affegato davanti ai nostri occhi la maga elettrica abbiamo di nuovo l'ata diamo un'occhiata ma non c'è nulla perfetto possiamo uscire abbiamo abbiamo visto che adesso d look non sappia sguardare per quello che avevamo il nostro personale principale è stato bello usarlo soprattutto contro nemici così come si può dire così adatti a sconfiggere insomma perché di luca è stato veramente facile sconfiggere insomma era proprio personaggi elettrici non solo dopo poco che era inutile a provarli quindi andiamo a fare il teatro sport e andiamo ecco si arrivati con il teatro sport adesso dobbiamo andare alla taverna di di luca eccoci qua entriamo nella taverna un caricamento anche qua come nel solito e deve ripetere subito il filmata ditemi che se vi piace come personaggio di 5 stelle di luca questo è una vita da una è un'occhiata è un'occhiata è un'occhiata è un'occhiata è un'occhiata città qualifiche è un'occhiata è un canale chi ha ancora il popolo o di teatro cristal con te qua? è un'occhiata ... Diamo all'alpa la lacrima che abbiamo purificato, l'alpa è diventata nuova, perché poi era sporchissima, l'abbiamo dovuta lavare giù con quella lacrima, è diventata nuova. Sì, ho parlato di D'Vallin, grazie a tutti i nostri amici che avevano purificato il cristal, il cristal è diventata nuova, che diceva di D'Vallin, non è una cosa che un'onorario non può fare solo. I will mobilize them. When you get the teardrop crystals, please let our honorary knight... ...heroes supporting each other and setting out on a journey to get... ...let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Hmm, wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? Heh, you're so cheeky. Oh, pie my nose. From now on, you'll be noticed. Here, we have an axe, in short, put on the new axe. I didn't think that with a purified axe, it would become like this. But, we hope that it is useful as it is. We're far away. 818 meters. But, for this video, it looks like this. I hope you enjoyed it. If you like this video, put it in a good position. If you haven't yet, subscribe to my channel and don't miss any other videos. Bye, see you next video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.